Contro 20, P2 del 9, Fabio Abiuso. Fabio Abiuso, da BPR Nutrition, calciatore, tifoso, mi capita di cantargli. Il preferito di cuore è Noe 3 Sam la Ghirlandaina, no io non sono bravissimo in dialetto, mi vergogno. Sì, da quando ero piccolo, comando io, no? Sì, grandissimo, sia da parte mia che da parte sua. Mia fidanzata. Daniele, ciao Dani, sta benissimo amico. Chloe, oh che fastidio, mamma mia, il giusto. Mio papà ha capito che da subito, mia madre ci ha provato fino alla fine ma non c'avevo voglia. Quando ero piccolo matematico. 42, no, quello no, l'hanno capito che non c'era. Adesso però ci sperano, perché ogni tanto gli do false speranze. Sì, scusa mamma, mi dispiace, gliel'ho già detto. Ghirlandina, non lo so, dipende da papà. Sì, papà, zio e nonno. Se il nonno dice di no, è no. 26, sì, speciale. Nonna, perché adesso 26 c'è la Ricky. No, faccio veramente schifo, sono un legno. Da piccolo facevo hip hop, poi quando al saggio feci una scivolata e tirai dritto da una parte all'altra, capì che non era la mia. Sì, però mi... Ho rivisto il video pochi giorni fa, mamma mia, che divertimento. Ho il braccio ingessato con la fasciatura rossa. Tigelle, tartellini, però cerco di stare il più attento possibile. Si vede, no? Amore. Grana. Sì, a morte sua. Mangerei solo quello. Sì, con la mia ragazza, mia famiglia, amici. Da solo, sempre. Mi piace come città, la adoro. Stefania, Giuseppe, Simone, Cane, Teo. Odiavo portarlo a fare i giri. Scendevo, due minuti e poi tornavo su. Però, poverino, non sono merito. Pilota di aerei. Sì, di tre anni, duemila. Ventiquattro anni. Farei troppi danni. Troppi pulsanti, troppi... Poi c'è l'inglese. Devo migliorare. Devo migliorare. Lo farò. No, no. No, no, Aldo. Sono Fabio Buso e sono un striker. E questo è un sogno. Io andavo sul sei. Puntavo al sei. Sufficienza. No. Campo no. Campo al top. Poi non sempre si riesce. Do tutto quello che posso dare. Alti e bassi. Gol Modena-Parma. Pre partita, inizio partita, Reggiana Modena. Fine partita, Reggiana Modena. No. Per un po' di notti. A pezzi. Piangevo. Eh, ne ho due. Lecco per golettese e rovesciata. Modena-Parma. Quello, il gol nel derby. Colpo di testa. Calcio di Bozzanai. Intelligenza calciistica di Gerli. Spontaneità e talento di Antonio Palungo. Christian Cautz. Valentin Carboni. E Cesare Casadei. L'ho odiato. Mi martellò dal primo all'ultimo minuto. Ti entra in testa. Riccio e Battistella. Quelli di una vita. Col Parma c'erano tutti. Proprio tutti, tutti, tutti. Infatti è stato bellissimo. Indimenticabile. Sì, ce n'è una. Per il gatto. Dedico al gatto, alla mia ragazza che mi dice sempre di essere un leone. Quindi sempre un po' così. Un po' un'esultanza che racchiude un po' tutto. Quando vuole stare con me, sì. Rapidità nei primi passi. Un po' d'esperienza. E cattiveria. Mi piace tanto far giocare la squadra. Mi piace giovenire a giocare. Poi in gol viene di conseguenza. Mi hanno sempre insegnato così. Vieri, Dzeko, Benzema. Benzema è idolo. Sì, l'anno prossimo ho tante squadre vicino. Tanti derby, tante rivalità sentite. Chi più, chi meno. È un bel gol sotto la Montagnani nel derby col Sassuolo. Sarebbe il top. È perenne, è palese. Segna il bomber sassolese. Un po' di tutto. Però mai con venti cattivi per ora. Mi piacerebbe diventarlo. Mi piace le responsabilità. No. Ogni tanto. Mi capita. Sì. Non sempre. Sto migliorando. Subito panico. Poi adesso sto migliorando. Bene. Oggi bene. Mi sono divertito. Ciao maddenesi. Per ora vi saluto e vi auguro buone vacanze. Ci vediamo la prossima stagione al Braglia. Un saluto dai gialli. Grazie per la visione